Un viaggio tra le eccellenze alimentari del territorio. La manifestazione Oro di Argenta, inserita all'interno della fiera, giunta alla 61esima edizione, si è conclusa anche quest'anno con un grande successo. Dal 7 al 9 settembre, sul palco di Piazza Garibaldi, si sono esibiti i noti chef di fama nazionale, quali Gianfranco Vissani, Igles Correlli e Sergio Barzetti, alternati sia a comici quali Giobbe Covatta e Dario Vergassola, e soprattutto alla sfida che ha messo a confronto istituti alberghieri di tutta Italia nel campionato Cuochi di Classe. La scuola vincitrice è stata premiata nel pomeriggio della domenica. A loro il prestigio di partecipare al Cus Cus Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale di San Vito Lo Capo, che si terrà a fine mese. Ad annunciare il nome dell'istituto è stato il giornalista Andrea Radic, assieme ai presentatori dell'evento, Eliana Chiavetta e Sergio Barzetti. Vegni di Cortona, il Vegni di Cortona dopo aver vinto... La motivazione è la seguente, la motivazione è la seguente, l'anguilla e il ravaggiolo come elementi portanti, l'involucro di pasta tenace secondo l'usanza toscana, la calibrata nota di acidità del pomodoro, il misurato ma decisivo contributo dell'aglione, equilibrio esemplare fra sapori incisivi in un piatto che la giuria ha unanimemente valutato al di sopra di tutti gli altri presentati. La manifestazione ha avuto anche quest'anno come tema centrale quello del Cus Cus, di cui Argente è diventata località leader nella produzione grazie ad una sinergia tra aziende che realizzano l'alimento con prodotti a chilometro zero. La graduale crescita dell'evento ha portato alla citazione della manifestazione anche tra le pagine del Corriere della Sera che in un articolo in cui si parla di street food e dei 25 appuntamenti di fine estate da non perdere ha inserito anche l'oro di argenta come commentato direttamente sul palco dal sindaco Antonio Fiorentini. Io sono orgoglioso della mia comunità e di quello che siamo in grado di esprimere sempre. Certo, quando ce lo riconosce anche il resto dell'Italia è un motivo in più di cui esserne orgogliosi, per noi una conferma. Certamente la manifestazione sta prendendo piedi, è sempre più conosciuta, è sempre più partecipata e è sempre un'occasione maggiore per far venire non solo gli argentani in piazza ma tutti gli italiani a vedere la nostra bellissima comunità e quello che sa esprimere di meglio. Oltre alle tre intense giornate tenutesi da venerdì 7 a domenica 9, Argente ha prolungato la fiera a lunedì 10 settembre con un gran finale in musica assieme allo Stato Sociale. band bolognese diventata celebre nell'ultimo festival di Sanremo con la IT Una vita in vacanza.